Oggi, vi immergeremo nell'intervista toccante di Jasmine Carrisi, figlia di Albano Carrisi, che ha aperto il cuore sulla sua infanzia trascorsa tra le luci della ribalta. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Jasmine Carrisi, erede di un leggendario clan musicale, ha affrontato coraggiosamente le critiche, sostenuta dalla sua instancabile madre, Loredana Lecciso. Recentemente, ha suscitato scalpore mostrando un lussuoso anello Gucci su Instagram, provocando reazioni invidiose e negative. In un'intervista commovente, Jasmine ha rivelato per la prima volta le sfide di crescere sotto i riflettori, confessando un desiderio struggente di una vita familiare più semplice e protetta. La costante esposizione mediatica ha segnato profondamente la sua infanzia, spingendola a desiderare un ambiente più privato. Criticando il modo in cui i genitori gestivano la loro fama, ha espresso il desiderio che la loro vita privata fosse più riservata. Nonostante le turbulenze nella relazione dei suoi genitori, Jasmine cerca di seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo, bilanciando la sua carriera con gli studi e la vita sui social media. E voi? Cosa pensate di Jasmine Carrisi? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.